C'è anche un'altra interazione con un farmaco antitumorale che è il paclitaxel. Anche qui l'estratto di semi d'uva aumenta i livelli plasmatici di paclitaxel e quindi potrebbe aumentarne l'eventuale tossicità. Anche di questo va tenuto conto in pazienti che dovessero assumere questo tipo di farmaco. E per ultimo Zingiber officinalis, lo zenzero. Lo zenzero è, anche questa è una droga che viene usata anche a scopo condimentario, dal punto di vista medicinale, fitoterapico, viene utilizzato soprattutto come antiemetico. Con un'efficacia piuttosto interessante, anche contro la cinetosi per esempio. Ci sono alcune segnalazioni che indicano che lo zenzero potenzia l'effetto dei farmaci anticoagulanti e anche antiaggreganti piastrinici. E questo va tenuto conto quando si dovesse utilizzare questa droga in pazienti che assumono farmaci anticoagulanti. Diciamo che questa rapida e sintetica carrellata, io ho cercato di presentarvi naturalmente in estrema sintesi le evidenze che abbiamo oggi per quanto riguarda le interazioni tra le principali droghe vegetali, non sono tutte ovviamente perché altrimenti il tempo sarebbe stato moltissimo, ma le droghe più utilizzate, più importanti, presenti anche nelle farmacopee, per segnalarvi che la fitoterapia scientifica non è un qualcosa che fa sempre e solo bene, ma è un qualcosa che sicuramente può fare bene, ma è un qualcosa che va gestito. L'autoconsumo, il consumo fatto da sé, senza consiglio del medico, senza consiglio del farmacista, potrebbe essere anche pericoloso. Abbiamo visto che alcune interazioni, pensiamo agli anticoagulanti o al tamoxifene, potrebbero essere delle interazioni che espongono il soggetto a dei rischi potenzialmente molto gravi. Questo semplicemente per dire che fitoterapia è una risorsa sicuramente a patto che segua ovviamente i criteri scientifici della medicina ufficiale e che venga guidata e gestita dai professionisti della salute e non dal fai da te. Grazie. Ringrazio moltissimo il dottor Sannia per questa presentazione che, come vedete, è una presentazione estremamente importante perché c'è la tendenza, quello che noi abbiamo imparato all'università come medici moderni, ha escluso la fitoterapia, mentre i nostri predecessori fino agli anni 50 studiavano la fitoterapia. Ora, il fatto di conoscere e sapere queste interazioni è estremamente importante e noi non dovremmo assolutamente ignorarle, perché avete visto che gli effetti collaterali possono essere molto importanti. Io ho chiesto al professor Sannia di dare questo taglio alla relazione e quindi non ha naturalmente parlato degli effetti benefici invece di queste piante e che i pazienti utilizzano. Per cui è estremamente importante che chi prende in mano un paziente che utilizza queste droghe, questi farmaci vegetali, anzitutto lo sappia, cioè glielo chieda e poi si documenti sugli eventuali effetti collaterali che queste piante possono avere con la terapia che lui intenderà somministrare al malato stesso.